Cari amici maddalonesi, quest'oggi ci troviamo in compagnia del signor Andrea De Filippo, candidato sindaco per Maddaloni nel cuore. Un cuore che i calcinacci del rudere comunale vorrebbero seppellire, ma pare invece che esso batta sempre più forte. Ecco, da quanto tempo batte il cuore di Maddaloni nel cuore? E in particolare, da quanto tempo batte nel suo, di cuore, il sogno di essere sindaco della sua città? Allora, voi avete la caratteristica, innanzitutto grazie per l'ospitalità, e voi avete la caratteristica di essere sempre molto poetici, anche nelle domande, quindi cercherò di adeguarmi. La Maddaloni nel cuore batte ormai dal 2011, dalla fine del 2011, quando insieme ad un gruppo di amici ritenemmo che nella nostra città fosse necessario dare una svolta alla politica locale, rinunciando alla comoda collocazione nei partiti tradizionali e navigando in mare aperto attraverso una proposta che mettesse al centro i bisogni della comunità locale e bandisse quelli che erano gli alibi delle collocazioni, centro, destra, sinistra, che nella nostra comunità in particolare non davano più risposte a quelli che erano i bisogni dei maddalonesi. Avevamo visto bene allora e tutto quello che è capitato dal 2011 in poi ci ha dato ragione al punto tale che dopo l'inizio di questa avventura siamo passati attraverso una campagna elettorale, quella del 2013, nella quale fumo sconvitti al ballottaggio nonostante che la lista di Maddaloni nel cuore si fosse affermata come la prima lista nella città e nel 2017 con la coalizione di Maddaloni nel cuore abbiamo vinto le elezioni al ballottaggio pur non riuscendo per le ragioni ormai assolutamente note a portare avanti la consigliatura. Le ragioni del 2011, della fine del 2011, oggi nel 2018 sono ancora più forti perché in questi 6-7 anni Maddaloni è ancora di più sprofondata nel baratro dell'inconsistenza della politica, dell'incapacità, della gestione amministrativa, della mediocrità di chi ha interpretato bisogni né ascoltati né esauditi. Oggi, per quello che mi riguarda invece, io credo che la mia storia personale con questa città è una storia che affonda le sue redici in un lontano passato. Io sono stato amministratore per conto della democrazia cristiana negli anni 80 fino agli inizi degli anni 90, un'esperienza che è coincisa poi con la fine della cosiddetta prima repubblica e devo dire che al di là di tutti i limiti anche di quell'esperienza ritengo che all'epoca la nostra città, Maddaloni, fosse una città sicuramente molto, ma molto decisamente migliore di quanto non lo sia adesso. Adesso io mi inoltrerei in un tema abbastanza delicato, quello dei cosiddetti imbarchi selvaggi. La sua coalizione, che lo ricordiamo unisce ben dieci liste, non è vista di buon occhio da parte della cittadinanza. Lei ha spiegato che essa aggrega solo ed esclusivamente tutti coloro che hanno compreso che per il bene della città si è giunto il tempo di accantonare gli asti e remare nella stessa direzione. C'è chi però incalza sostenendo che è maggiore il numero di persone coinvolte e maggiore quello dei compromessi di cui si sarebbe sobbarcato. Le chiederei quindi di illustrarci l'anatomia ed evoluzione della sua compagine. Lei ha fatto qualche sondaggio evidentemente per dire che la mia coalizione non è ben vista dalla città. Io credo invece che sia esattamente il contrario e credo che il 10 giugno Maddaloni ci tributerà una messa di consensi tale da consentirci di governare finalmente dopo tanti anni con autorellezza e con competenza questa città. Quindi rispedisco al mittente la sua affermazione che la città non vede di buon occhio la mia coalizione. Evidentemente il suo giudizio personale incide sul senso della domanda. A parte il fatto che sarebbe interessante capire chi sarebbero quelli che sono stati imbarcati perché qui la mia coalizione è la stessa dell'anno scorso con l'aggiunta dell'Udc che è un partito che anche a livello nazionale ha fatto delle scelte di campo e del candidato sindaco Bove che quest'anno ha deciso di fare un passo indietro rispetto alla sua candidatura a sindaco per sostenere un progetto di governabilità relativo alla mia persona. Il fatto poi che io sia riuscito a mettere insieme molte energie che si sono trasformate in liste non significa aver imbarcato tutte. Questo è l'unico argomento che molti evidentemente hanno nei miei confronti in considerazione del fatto che i maddalonesi hanno compreso anche in virtù del mese di governo che ho svolto nel luglio scorso che noi rappresentiamo oggi l'unica possibilità seria per governare in maniera efficace ed efficiente questa città è per riportarla sulla strada della normalità. Oltretutto se io avessi potuto, e l'ho ripetuto in tante circostanze, lo ribadisco anche adesso, avrei aggiunto ancora altre liste alla mia coalizione perché credo che questa città non abbia più bisogno di seminatori di odio, di zizzanie di coloro che vedono ad ogni costo la politica come occasione per scontro. Questa è una città che viene fuori da una sorta di terremoto, è una città che è fatta di macerie e quando bisogna rimuovere le macerie per ripristinare la normalità non si chiede la carta d'identità a chi toglie la macerie al tuo fianco. Si lavora lacrimente, noi abbiamo intenzione di lavorare al di là di tutte le chiacchiere da cortile che sono contenute nella domanda che lei mi ha fatta. Durante la quarta tappa delle sue assemblee pubbliche è anticipato che in caso sarà di nuovo sul colle e auspicabilmente per un periodo di tempo più esteso saranno detti molti no. Ecco, questi no, a chi e a cosa andranno e quali provvedimenti adotterà in caso di indifferenza al loro proferimento? Sul colle c'è Mattarella che in questo momento non gode di particolare, non dico salute, ma di particolare tranquillità in considerazione di quella che è la vicenda nazionale. I no saranno dedicati a quelli che in questi anni si sono abituati a fare gli affari propri, a quelli che in questi anni hanno assunto come modello di riferimento quello di non rispettare le regole. I no saranno rivolti a coloro che non vogliono condividere delle norme che una comunità civile deve rispettare senza distinzione di sorta. I no saranno rivolti a coloro che ritengono o riterranno di continuare a fare una politica inconcludente fatta sulla logica degli schieramenti, delle appartenenze, della divisione delle poltrone e non rivolta alla soluzione dei problemi della città. I no saranno rivolti a tutti quelli che ritengono che il comune di Maddaloni sia una mucca da mungere. I no saranno rivolti a tutti coloro che non si allineeranno decisamente, pur nella diversità delle opinioni, sulla direzione di restituire decoro e dignità alla nostra comunità. Nella sua mesata di amministrazione cosa ha fatto e cosa si accingeva a fare prima che l'opposizione la destituisse? Il suo programma, di cui parleremo nel dettaglio magari la prossima volta è stato riproposto integralmente o questa parentesi le ha fatto aggiungere qualche altro punto? Nel mese di amministrazione ho cercato di dare un esempio. L'esempio cioè che si può svolgere la funzione di primo cittadino e di buon amministratore di una comunità stando innanzitutto tra la gente e rendendo manifesto un impegno che non necessariamente deve essere legato alla logica della scrivania. Noi siamo stati abituati per anni a vedere dei sindaci molto esposti durante le campagne elettorali che poi dal giorno dopo la campagna elettorale diventavano degli oggetti sconosciuti, chiusi quasi in un fortino e per parlare con i sindaci c'era bisogno di referenze speciali. Io ho voluto testimoniare in quel mese che si può essere primi cittadini essendo dei primi interpares, cioè si può essere sindaci di questa città condividendo i bisogni e le necessità della gente. Sono stato a fianco degli operai che tagliavano l'erba, sono stato la notte a fare la ronda per evitare gli sversamenti selvaggi di rifiuti, ho cercato di mettere ordine nel settore della raccolta dei rifiuti che è un settore sgangherato e sul quale bisognerà agire con grande decisione, con l'accetta se necessario, per spezzare troppe connivenze, troppe inefficienze, troppe incrostazioni e troppe incapacità di gestione di un settore nevralgico. Credo di aver dimostrato che il buon governo si può cominciare a praticare dalle cose semplici, da quelle per intenderci della pulizia delle caditoie a quelle della sistemazione delle aiuole, perché la gente in questo momento ci chiede cose semplici, ci chiede di tappare le boche, ci chiede di poter camminare sui marciapiedi, ci chiede di vivere in una città più pulita e in quel mese credo che molti maddalonesi abbiano apprezzato questo tentativo, il tentativo cioè di riavvicinare la politica non attendendo che la gente si recchi presso l'istituzione, ma facendo in modo che l'istituzione si facesse anche fisicamente visibile presso la gente. Il mio programma è sostanzialmente quello dell'anno scorso perché la scelta accelerata di interrompere la consigliatura il 27 luglio scorso non ha fatto altro che procrastinare di un anno tutte le emergenze gravissime che sono state al centro della campagna elettorale dell'anno scorso. Un programma ovviamente aggiornato delle ulteriori emergenze che a quelle già presenti si sono aggiunte o si sono rese più attuali. Penso per esempio alla indifferibile necessità di un tavolo di concertazione definito e definitivo con RFI a proposito della soppressione dei passaggi a livello. È proprio di questi giorni la scadenza del termine che i comuni avevano per presentare le proposte per le opere compensative relativamente ai lavori dell'alta capacità e anche in questo caso il comune di Maddaloni non ha presentato nessuna proposta. Quindi si tratterà di recuperare una serie di ritardi che in questo anno si sono accumulati con buona pace di coloro che in mala fede esultavano all'indomani della nomine del commissario dicendo che un buon commissario sarebbe stato migliore di un sindaco azzoppato. Io rimango dell'idea, come dissi allora, che il peggior sindaco è migliore del miglior commissario e noi non abbiamo avuto in questo anno il miglior commissario che ci potesse capitare. Grazie mille per la sua disponibilità. Torneremo a intervistare il candidato De Filippo la prossima settimana. Nel frattempo ci concediamo porgendogli il nostro in bocca al lupo per la sua campagna elettorale. Grazie a voi.